Un cordiale saluto dalla redazione di Florence TV, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI, dove per lavori tra Ginestra, Fiorentina e La Strassigna si sono formati 3 km di coda in direzione Firenze e 1 km di coda in direzione Livorno. Spostandoci in A1 in direzione Bologna, 3 km di coda per traffico congestionato tra Firenze e Scandici e il bivio con la variante di Valico-Baccheraia. Sempre verso Bologna per lavori si segnala la chiusura delle corsie interne tra Firenze-Sud e Firenze-Scandici e per questo motivo la formazione di 2 km di coda tra Firenze-Sud e Firenze-Impruneta. In direzione Roma per traffico intenso rallentamenti tra Aglio e il bivio con la variante di Valico-Baccheraia e tra il bivio con la variante di Valico-Baccheraia e Calenzano-Sesto-Fiorentino. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!